sembra proprio la birra cosi comunque quello che ti offrivo io in barca il succo di luppolo è birra praticamente un luppolo con me 2 ore ma ci vogliamo comprare una bottiglia pure una e la teniamo in barca io non amo tanto però se tu ti piace ma dura questa se la tieni in frigo o in congelatore se bevi oggi quella congelatore si si niente di frigo e non diventa solida si ma poi si spacca la bottiglia no ma devi metterla su una bottiglia è plastico ok un glace un glace un glace come? un glace un glace un glace un glace un glace un glace siamo dolce forse per tenere quindi sappiamo pure dove venire usciamo da creata marina veniamo qua io non lo amo no? cioè non mi fa impazzire troppo dolce vero? a me si mi fa impazzire e cioccolata tutte le cose dolci ti piacciono? ma no cioè quando sono a casa mia mai ma sono in viaggio guarda i segni di cioccolata eh si guarda guarda ma dentro col dito che mi era è stato e guarda per 3 euro una bottiglia cioè io la pago 3 euro questa bottiglia 3 euro? si ah 10 euro ok ah vedi ah da lì qui 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 è proprio mamma i'm gonna refill senti è proprio naturale ma in mio paese ci sono 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 abbiamo una macchina di steel che funziona che funziona come funziona come funziona come funziona Indigenous ci sono cuore all'uomo no, 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 non funziona automáticamente in questo tipo? funziona in il mio canto a piscina pipe e il soale oh, aqui lo riusciti è che non funziona il sirio viene subito e qui e lo! è giusto? addımızglo che buono Ok mamma, faccio un po' di te e poi faccio un po' di acqua Oh, sembro che ero dritto con la bottiglia E' un po' di acqua Ehm, come se potessi riempire un po' di acqua potresti riempire questo po' di acqua? No problemi Grazie Un po' di acqua Sì So che posso lasciare la bottiglia per provare a due amici Quindi questa è la lacia per voi Voi l'altra bottiglia, io ce l'ho vuota se la vuoi prendere Ah no, è proprio un assaggio Un assaggino Carino però vedi, vendono proprio la macchina Ah, here, you have water? Yeah Oddio So next time you bring back the friend? The one? Next time you bring back the friend? Yeah, of course Of course Oh, di malato questa Questa mi piace che anche ti danno l'acqua lì E' calda però E' calda E' calda E guarda, ecco, un'altra Mi ricorda dei primi giorni di Martinica Due litri tutti i giorni E poi mettiamo acqua E' calda 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 si, cosa c'è? alcolica è solo miele, miele fermentato allora, il nostro caro amico dopo una scorpacciata di cioccolato si si beve questo è maiale, questo di cioccolato mmm jamming è la seconda vuoi una foto? si bevi la prima volta è fatta questa è veramente seccola è veramente meravigoso questo è molto in vigoroso potre dire, in vigoroso no, 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 no no, no, no questo è per il tassi, questo è per il tassi è perfetto per me, per me questo è molto bene seccolato perché è buildo il sangue molto rapido e questo qui? chiede, questo è un vero vero perché? chiede perché non vuoi dire? ma è il segretto? lei ha la proposta ok, mi ha detto si è un'enhancita performance e è ancora un po' più lunga per i bambini è come piagra è il juice di piagra è come natural piagra è il juice di piagra ti metti piagra in acqua no, no, no che è buono per questo? il bambini è pulita il sangue è pulita il sangue è pulita il sangue è stimolante in ogni senso è stimolante ok il bambini ah, il bambini si può riuscire tutto naturale è pulita il sangue è pulita il sangue è pulita il sangue con il sangue il sangue il sangue è molto bene potre acquistare un po' più? sì, non ci provi solo un po' più vedo tutti i sugi ok ok non è frutto non è frutto non è frutto anche in alcool è frutto l'alcohol è frutto l'alcohol è frutto l'alcohol è frutto è frutto l'alcohol è frutto è frutto l'alcohol è frutto ci sono due ci sono due un buon un buon un buon un bello vedo l'alcohol si è come chi è il buon lui? lui lui lo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Now you're going home. Oh, it's very dangerous, huh? No, it's not dangerous. It's not dangerous.